Incarnal, clarinettisti composto da Arianna Leidi, Rebecca Gencarelli, Lucrezia Mendeni, Tommaso Carrara, Giulia Mora, Paola Carrara, Lorenzo Diconosco, Alice Ardenghi. Ci propongono il brano Minuetto di Parcell e Gavotte di Bach. Ci propongono il brano Minuetto di Parcell. 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 San Salesciano. Ci propongono il brano Minuetto di Parcell. Ci propongono il brano Minuetto di Parcell. Ci propongono il brano Minuetto di Parcell. Ci ppl� subir poi вн requirements. Grazie a tutti. Grazie a tutti.